Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati in sala, come vedete qui davanti a me già pronto per lo start Daniel Negreanu tantissimi volti notti in gara qui al Day 1A dell'EPT di Sanremo come vedete questa è la prima sala del torneo che per metà è ancora vuota ma la sala primaria dove si svolgerà la gran parte dell'action del torneo invece è già altamente gremita, tanti ancora i giocatori che stanno arrivando in sala per l'iscrizione qui davanti vediamo anche Marco Bognanni che salutiamo come stiamo Marco? Tutto bene? Adesso ancora bene, poi vi aggiorno piano piano Portiamo a casa la picca mi raccomando Andiamo anche a dare uno sguardo alla sala principale del torneo che quest'anno sarà appunto questa che stiamo inquadrando come vedete qui i tavoli sono già tutti occupati tantissimi i giocatori che hanno deciso di pagare il biglietto di iscrizione pari a 5.000 euro più 300 come per tutti i main EPT un action che promette veramente molto bene noi la seguiremo sempre in diretta sul forum di pokeritaliaweb.org non perdetevi nemmeno un briciolo di action grazie al nostro video blog live noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti dalla sala come sempre pokeritaliaweb.org ciao a tutti